Ciao ragazzi sono i quelli di Anderi, volevo chiedervi una cosa, se potete una sigla, ve la faccio però dovete farmi una cosa, buttate, ecco, allora dovete registrarla, poi mettetela sul nostro canale sulle nuova sigla, da quella di Anderi fatta, ovviamente fatta da un mio video, quindi andare e poi registrate lì, poi siamo in altri modi, fatelo, voi dovete, se non ci avete altri modi per forza registrarla, registrate prima lì, sul vostro canale, e poi fai dei video, avete capito, ciao